Salve ragazzi Benvenuti in questo nuovo episodio di Gears of War 2 Ok, devo trovare l'entrata della caverna Ci mancava solo questa E che cavolo Due E tre Grazie Chiunque sia stato E che cavolo Un esercito Bene 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 Ma perché sempre queste cadute Sempre più nell'inferno come si può dire Eh già Credo che sembrava Sembrava di Aveva l'inferno prima Che bello assessore Salve Siamo arrivati Ok Non c'è nessuno Come non detto Ecco il nostro passaggio Perchè no Andiamo Bello E' come guidare Un Metal Gear Animale Vai raga Direi che siamo tutti A per l'ultimo episodio A questo punto E Quindi andiamo a finire il gioco Facciamo distruzione Ovunque Vai con la distruzione Mi sa come si fa a sparare Ah ecco Guarda Vuoi uno scontro Con la spesa I massimi Vai così Scappate Godardi Scappate Che bello Guidare Questo Cosa Ma cosa dovete fare Ma che cosa Bene Andiamo Verso la porta A pivedere Che c'è qualcuno In casa Salve Siamo Alcuno In casa E' la morte Che busta Boom Oh no Oh no Ecco qua Ecco qua il radio Vai Ah ma è quello Lo scontro Eh Patti sotto Avrai più Jump Ma io sono Più forte E' la morte Eh diglielo Si ho spaccato In due E seconda porta Aperta Dove scappate Dove scappate di bello Dai Giochiamo un pochino Insieme Voglio solo Uccidervi E' la morte 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 ... 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